Stai ascoltando un podcast per Izzoli Education. Storia della matematica Le calcolatrici sono davvero indispensabili? Pensa di essere al supermercato. Quel giorno l'addetto alla cassa si è intestardito a eseguire i conti a mente. Prende il primo articolo dal rullo, cerca il prezzo, lo memorizza, prende il secondo articolo, cerca il prezzo, lo somma al primo e così via con tutti gli articoli di tutti i clienti. Non serve un indovino per capire come va a finire la storia. I tempi di attesa esplodono e la gente sbuffa, senza contare il rischio di commettere errori. La maggior parte dei clienti vorrà ripetere il conto per controllare che sia corretto. Le file si allungano e il supermercato si intasa. No, non c'è alternativa. Le calcolatrici sono necessarie. Quando abbiamo cominciato a usarle? Da uno scavo archeologico sui monti Le Bombo, in Africa, è venuto fuori un perone di babbuino di 35.000 anni. Sul perone sono incise 29 tacche. Forse era stato usato per contare i cicli lunari, o forse per contare le prede dei cacciatori. Nessuno lo sa, ma tutti sono d'accordo su un fatto. Serviva a contare. L'osso di Le Bombo è a tutti gli effetti una delle prime macchine da calcolo della storia. A voler essere precisi, ce n'è una precedente, che tutti conosciamo bene. La mano. Quasi sicuramente l'uomo cominciò a contare aiutandosi con le dita. E non solo. Alcune popolazioni della Papua Nuova Guinea contavano servendosi di tutto il corpo. Partivano dal mignolo della mano destra, che indicava l'uno, e arrivavano al dito piccolo del piede destro, che era il 33. L'uomo ha sempre sentito la necessità di avere strumenti per semplificare i conti più impegnativi, per ridurne il tempo di esecuzione e per garantirne la correttezza. Le macchine da calcolo nacquero per questi motivi e oggi ce ne sono di varia natura a seconda del tipo di calcolo richiesto. Una macchina che calcola la posizione degli astri è diversa da una che calcola l'ampiezza di un angolo. Noi parleremo di macchine nate per le operazioni numeriche. Circa 5.000 anni fa, i nostri antenati costruirono l'abaco. Originariamente era una tavola di legno con delle scanalature su cui appoggiare dei sassolini. I sassolini potevano anche essere forati al centro e infilati in asticelle di legno, come in uno spiedino, dando all'abaco la forma del pallottoliere. La diffusione dell'abaco fu globale. Ce l'avevano tutti. Lo utilizzarono i cinesi, i babilonesi, i fenici, i greci, i romani, tutti. Vi furono anche altre macchine da calcolo che vissero insieme all'abaco, ma non furono altrettanto longeve. È solo dopo la metà del 1600, quando in Europa si era già diffuso il gusto per gli orologi, che si assiste alla nascita di una nuova generazione di macchine. Sono le cosiddette calcolatrici meccaniche, cioè macchine che eseguono calcoli mediante ruote dentate, leve e cinghie. La più famosa di queste è la Pascalina. La costruì il matematico Pascal, allo scopo di aiutare il padre, che per lavoro era costretto a calcoli lunghi e noiosi. È un cofanetto di legno, dalla forma di una scatola da scarpe, piena di ingranaggi collegati tra loro, che eseguono addizioni e sottrazioni. La Pascalina ebbe un successo strepitoso. Da allora i costruttori di calcolatrici si scatenarono. In meno di due secoli si arrivò alla svolta che avvierà la storia delle macchine meccaniche al tramonto. Queste macchine, infatti, avevano il limite di richiedere l'intervento costante di un operatore che muovesse gli ingranaggi. Nel 1821 il londinese Charles Babbage concepisce la prima calcolatrice automatica. Quarant'anni dopo supererà se stesso presentando il progetto di una macchina più evoluta. Era alimentata da un motore a vapore, riceveva i dati mediante schede perforate e comunicava i risultati con una stampante. Era grande come una locomotiva e pesava 15 tonnellate. Siamo ancora lontani dalle calcolatrici leggere che portiamo nello zaino, ma la strada verso l'automatizzazione dei calcoli era aperta. Oggi le nostre calcolatrici sono tascabili. I meriti di questa comodità sono molteplici. Dobbiamo ringraziare il miglioramento dei materiali, l'impiego dell'elettricità, il perfezionamento dell'elettronica e anche qualche colpo di furbizia. Come quello dell'americano Dorfelt, che nel 1887, ispirato dalle prime macchine da scrivere, pensò di munire le calcolatrici di una tastiera. Un'ultima curiosità. Prima ti ho detto che l'abaco fu un'invezione longeva. Riesci a immaginare quanto? L'abaco è facile da trasportare, economico da costruire e permette una velocità di calcolo sorprendente. Tanto che anche le macchine di nuova generazione non sempre riescono a batterlo. Il 12 novembre del 1946, al teatro Ernie Pyle di Tokyo, la giovane calcolatrice elettronica sfidò il millenario abaco in una gara di velocità. La calcolatrice era operata dall'americano Thomas Wood, selezionato in una competizione di aritmetica come il più esperto operatore di dispositivi elettronici. All'abaco sedeva il giapponese Kyoshi Matsuzaki, funzionario al Ministero delle Poste. Ai due concorrenti vennero assegnati cinque problemi di aritmetica. L'abaco vinse 4 a 1. Seguici su rizzolieducation.it per ascoltare le prossime puntate di Storia della Matematica. Hai ascoltato un podcast per Rizzoli Education.